Ciao, benvenuti sul canale. Oggi volevo parlare di un argomento, non volevo fare polemica, non è mia abitudine fare polemica, però volevo parlare, come già avete letto dal titolo, di tutti quei commenti che ci sono sotto i video di iscritto ricambi, iscritto ricambi, iscritto ricambi. Allora, il mio è un canale piccolo, ovviamente anche a me interessa che il canale cresca, mi fa piacere, però quello che dico io, andare sotto a tutti i video, voglio sapere anche voi come la pensate, se sono io che la penso in modo sbagliato, se è giusto fare così. E nel senso, allora, fare questi commenti, iscritto ricambi, iscritto ricambi, per me sono, tra virgolette, inutili, perché se io vado a scrivere, o addirittura ci sono dei commenti che dicono, io mi iscrivo al tuo canale solo se tu ti iscrivi al mio, cioè, per me è assurdo. Tu devi iscriverti al mio canale, se ti piace il mio canale, altrimenti dopo non guarderai il mio canale, cioè, ti iscrivi al mio canale per cosa? Per avere l'iscrizione, ok. E quindi, comunque quello che conta sono anche le visualizzazioni, ma poi, a me interessa che il mio canale venga visto da persone che siano interessate a quello che faccio vedere, che possa essere una ricetta, un acquisto, o degli argomenti che tratto, oppure della vita mia da mamma, come mi organizzo, la mia vita, che mi vengono fatti questi commenti così, a me non piace. Anche io sono andata, anche a me è capitato di iscrivere a canali che a me piacevano, e che io già seguivo, di dire, guarda, a me piace molto il tuo canale, e se ti interessa, anche io è un canale molto piccolo, se ti fa piacere, vienilo a vedere, ma non con la cosa ti devi iscrivere, altrimenti io non mi iscrivo al tuo canale, o io non vedrò più i tuoi video. Io se sono iscritta a quel canale è perché mi piace, se mi iscrivo al tuo canale è perché mi piace. Io a questi commenti rispondo anche in modo educato, perché è giusto che sia così. Quindi, non prendetela come un'offesa o come una cosa, perché negli ultimi giorni sto ricevendo un sacco di commenti di questo tipo, che secondo me sono, vi ripeto, sono inutili, non la prendete come offesa, ma a me piace essere chiara, non mi piace essere falsa, soprattutto su una piattaforma, dove appunto ho esposto la mia vita, faccio vedere la mia vita, la mia quotidianità, e quindi non mi sembra, mi sembra quanto inutile questa cosa. Cioè arrivare tipo a mille, dieci mille iscritti, a pro di che, se poi comunque realmente queste persone non sono interessate. Vi ripeto, a me fa piacere che le persone che si iscrivano al mio canale è perché hanno piacere di guardarlo, di restarci, di commentare, quindi, niente, non voglio dilungarmi su questa cosa. Però ci tenevo anche, quindi non lo so, ci saranno tanti disiscritti, persone che si disiscriveranno, però non fa niente, perché preferisco più persone che restano qui sul canale per volere e non per dovere, diciamo tra virgolette, per questa cosa è scritto ricambi, scritto ricambi. Vi stavo dicendo, perché poi mi dilungo, sono logorroica, parlo sempre. Io rispondo in modo educato e dico sì, passerò a vedere il vostro canale, passerò a vedere il tuo canale, sì, guarderò il tuo canale, sì, certamente, ma perché io prima di dire sì mi iscrivo, io vado a vedere i video di quella persona, vado a vedere se quel canale mi possa interessare, quindi io mi iscrivo a quel canale se realmente so che poi andrò a vedere, cioè, altrimenti è inutile. Quindi, no, non vi dicono scrivete queste cose, però, cioè, da me non avrete questo tipo di iscrizione, questo iscritto ricambi, oppure addirittura, come vi ripetevo prima, addirittura persone che scrivono, se ti iscrivi al mio canale o mi iscrivi al tuo. Vi ripeto, per me la cosa importante è altro. Io lo faccio per passione YouTube, perché, come sapete, è un altro lavoro. Sicuramente mi piacerebbe crescere su questa piattaforma, perché è una cosa che faccio con amore, nonostante il mio poco tempo. Infatti a me fa piacere che voi imparate a conoscermi per quella che sono, e non per queste cose così, o soltanto per i miei acquisti e altro. E quindi, niente, volevo spiegare questa cosa, perché, vi ripeto, ultimamente sto ricevendo tanti di questi messaggi, che io, sinceramente, non riesco a capire, non riesco a capire, non so come si chiamano questo spam, questa roba, non la riesco a capire, non la condivido in un certo senso. Quindi, quindi, niente, volevo dire, volevo dirvi questa cosa. Come un'altra cosa sono, ora visto che ci siamo, questo video, tra virgolette, polemica, perché non voglio polemizzare, soltanto per chiarire. Oppure quelle persone che mettono, non mi piace, o mi piace, cioè nel senso, secondo me, io non ho mai messo non mi piace a un video, ma questo non, cioè non vuol dire non accettare critiche, perché io le accetto benissimamente le critiche, tranne le offese. Però, secondo me, se no cosa non ti è piaciuta, non mettere il pollice in giù, non mettere niente, non commentare, oppure, quantomeno, commenta dicendo cosa non ti è piaciuto di quel video. Perché, secondo me, è da apprezzare anche l'impegno di quella persona. Ci può stare che a me un video, tipo, non mi è piaciuto, perché troppo... Io non condivido determinate cose che vengono fatte o dette, però, per come sono fatta io, o non scrivo niente, o non commento, perché non mi è piaciuto, oppure, posso dire, posso fare una critica in quello che c'è stato, in modo educato, secondo il mio parere, e quindi, senza mettere un pollice in giù, perché calcolate che quella persona ha impiegato il suo tempo per fare quel video, ha impiegato il tempo per editarlo, tra virgolette, l'avrà fatto sicuramente con amore, perché se è una cosa che fa, significa che le piace farlo. Quindi, a me non piacciono queste cose. Volevo chiarire soltanto la mia idea su questi... su questi argomenti, mi piace, non mi piace, iscritto, non iscritto. Non ci saranno più queste tipologie di video, non credo che ne farò altri, perché, vi ripeto, a me non piace polemizzare, però volevo chiarire questa cosa, perché io, essendo un canale piccolo, non ho interesse a farlo crescere, appunto, velocissimamente, per magia. Come non mi sognerei mai di comprare gli iscritti, perché io so che si possono comprare addirittura gli iscritti, c'è una cosa assurda, cioè, per me è una cosa assurda. Comunque, niente, penso di essermi dilungata troppo, come sempre. vi ripeto, fatemi sapere con i commenti voi cosa ne pensate, perché accetto, vi ripeto, accetto le critiche, so che questo video potrà dar fastidio a molte persone, però ero... volevo dire il mio pensiero su questa cosa. Quindi, niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao! Ciao!